Antivigilia di Sampdoria Inter e l'attesa per l'esordio dei blucerchiati nella Serie A 2008-2009 è alle stelle. Uno dei dati che maggiormente rispecchia la situazione è senza dubbio quello relativo ai biglietti. Da lunedì ad oggi infatti ne sono stati venduti 10.000. Esauriti dunque i posti di tribuna superiore distinti e, è questione di ore ormai, anche di tribuna inferiore. Resta dunque la gradinata nord insieme al settore 6, vale a dire il settore ospiti lato gradinata sud, che sarà ovviamente destinato ai sostenitori blucerchiati. Per assicurarsi un tagliando c'è tempo fino a sabato presso gli sportelli L'Automatica ed il Sampdoria Point. Noi di Samp Web TV intanto cogliamo la palla al balzo per proporvi le immagini di Sampdoria Inter dell'anno scorso, quando i ragazzi di Mazzarri andarono vicinissimi all'impresa. Tutti ricorderanno il gran gol di Antonio Cassano sotto la Sud, allo stesso modo in cui è ancora ben presente nella memoria dei tifosi la prestazione che la Samp seppe offrire, punita solo da una prudezza di Herman Crespo e dalla qualità infinita che l'Inter aveva saputo far fruttare nonostante una gara più in ombra che in luce. In campo quel giorno c'era anche Daniele Franceschini, che probabilmente bisserà il gettone anti-Inter anche sabato, stando almeno alle indicazioni del precampionato. Il centrocampista Romano ha parlato con noi della sfida contro i Nerazzurri, del momento Samp e di Antonio Cassano, uno che la differenza la fa sempre e comunque. Inizio scoppiettante direi, però siamo contenti così perché almeno c'è subito un esame duro con anche una novità che riguarda anche l'allenatore, un allenatore forte, carismatico che ci può dare quello stimolo in più per far bene. Sono 40 giorni che ci stiamo allenando e quindi non vediamo l'ora di cominciare. Noi dobbiamo guardare a noi stessi perché loro ovviamente sono fortissimi, poi hanno anche l'entusiasmo dell'allenatore, però alla fine vanno in campo i giocatori, andiamo in campo anche noi e siamo convinti di poter far bene. Siamo carichi, abbiamo dimostrato che possiamo mettere in difficoltà chiunque e quindi anche sabato proveremo a mettere in difficoltà l'Inter anche con l'aiuto del nostro grande pubblico. Sicuramente dobbiamo correre più di loro e anche meglio, quindi io direi che dovremmo essere perfetti sia a livello tattico che fisico e poi speriamo di riuscire a capitalizzare magari le poche occasioni che ci concederanno e in questo chiederemo aiuto magari ad Antonio. La squadra intanto si prepara a Bogliasco dove per tutta la settimana non è mancato il sostegno dei tifosi e dove Mazzarri sta studiando le mosse per regalare sabato sera una grande partita al popolo blucerchiato. Bocche cesellate sullo schieramento definitivo anche perché il mister della Samp parlerà soltanto domani con la stampa nella tradizionale conferenza pre-partita. Difficile comunque che il tecnico dia indicazioni precise, mentre è certo il programma odierno che ha visto la Samp allenarsi al Mugnaini nel pomeriggio. Tutti disponibili gli effettivi. Il gruppo è pronto per la grande sfida.